Tutti ragazzi sono sempre io e oggi siamo tornati su Life is Strange Ok, l'ultima volta ci siamo lasciati qua Dovevo andare a parlare con Taylor, dovevo andare a parlare Non litighiamo Video di Kate Victoria Amiche più potenti Mi piace Allora adesso dobbiamo andare da questa parte Perché la nostra missione principale per adesso è prendere l'autobus per andare al dinner Un messaggio Chi è questo? Sono il padre di Nathan L'avverto Qualunque tentativo di diffamazione e ricarto contro mio figlio verrà affrontato in tribunale dei miei legali Non è la prima della Blackwood ad approvarci Spero che sia l'ultima Così del primo e ultimo avvertimento Bene Cosa vuoi Warren? Parliamo Non lo vedo bene Grazie Cosa vuoi? Chloe Prince Chissà perché Dai, diciamo la verità Ma che c'è Diciamo di sì Diciamo di sì dai Ok Quindi adesso dobbiamo andare all'appuntamento con Chloe Mi sembra il caso Prendiamo sto autobus Ok Siamo arrivati alla fermata dell'autobus, credo Sembra tutto tranquillo Bene Bene Quello che faccio io ovviamente Giuro sto amando sto gioco Non so come commentarlo sta scena perché Sembra da film Io me la voglio godere fino alla fine Credo siamo arrivati Credo siamo arrivati Sì sì Eccoci qua Eccoci qua Sì Bene Bene Mi conviene entrare E' permesso Buon salve Bene C'è un messaggio Sì 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 I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe? Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe understands. She just needs time. I know that sucks for you. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercing, blue hair. Now she's got a rebel against her stepfather. I see why, I mean. Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility. Diciamo che l'ha spaventato. David scared me when he said he might have my scholarship taken away for that stupid joint. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her along with all the students at Blackwell. Capisco. I get it, Joyce. I know Chloe still likes to stir things up. Yeah. Zizza mia. Especially David. I just want us to be a family soon. I guess it's all about time. I think you're right, Joyce. So, now let's get down to the nitty gritty. What do you want to eat? Waffle alla belga, dai. The last good Belgian Waffle I had was here when I was 13 years old. So, bring it on. Now finish your coffee. Bene. Mi conviene bere il caffè a sto punto. Ok. One Belgian Waffle at 12 o'clock high. I love the delicious anticipation of breakfast. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. Beh, mi sembra ovvio. Bene. Adesso che dobbiamo fare? Can I get some beer and bacon before I die? This is a diner, not a bar. No beer? It looks like you had plenty. Stick with bacon. Vediamo un po' il menu. The only thing that's changed on the menu are prices. Non male come menu, dai. Incoming. Oh, sta arrivando mi sa. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Ah, madò. E' amplificato. I'm truly Michael James. Still can't believe your woman. When I look at pictures of Chloe... Ah. Hmm. Speak of the devil. Guarda caso. Mom and Max, together again. I know she did. Max is a good girl. Woman. Si, perchè a 18 anni si è donna. Too old to get lectures from your Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lecture. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Now that that's out of the way. Let's talk about your superpower. I don't have any explanation. And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's such a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here. Now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have x-ray vision, dude? I don't even know what's in my pocket. Let me see. Okay, Max. Impress me. Eeeeh. Neclar vu. Your car cheese. Duh. Way too easy. I need details. Describe my keychain. A teschio. A skull keychain for a punk like you. That was so... Wrong, Max. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Ah. That was beyond epic fail. You even made me want to believe you. Bene. Okay, Max. study every item carefully and don't forget anything. Allora, c'ho... Un panda. Va bene. Un pacco di sigarette. Monete. E... Un biglietto del... Di qualcosa. You got this, Max. Now rewind. Ok, vai. Andiamo indietro. Bene. Devo cercare di stupirla. In quanto ho capito. Eh... Sigarette. Eh... Sigarette. Un super power that allows you to count cigarettes. Cool. Ma che... L'hai indovinato. Sono un pronome. Lo ricordavo. Poi c'hai i soldi. 25 centesimi. 25 centesimi. 25 centesimi. 25 centesimi. You lose. Ok, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Bene. Ne aveva di più. Allora, abbiamo detto che avevi le sigarette. E ne avevi Sette Avevi pure una multa 10.34 Mamma mia Poi avevi soldi E ne avevi 82 Erano 85 allora Ok adesso C'avevi soldi E ce ne avevi 86 Ce l'abbiamo fatta Dopo tanti tentativi Adesso c'ha le chiavi A panda Quindi quello era un portachiavi Chissà come abbiamo indovinato C'ca C'ca No 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 Cosa? Non c'è il riempio per te. Ssss. Ora devo prendere questa chiamata e lasciare il mio buon giorno. Ehi, dove è il mio partner? Sei un d***o. Non mi chiamare, b***o. Prendete il club di combattimento fuori. Ho iniziato. Io lo finisco. Probabilmente lo devo dire alla tipa, a Chloe. Siamo a predicar 4 eventi che succederanno nei prossimi 30 secondi o così. Allora, la prima è che fa cadere il bicchiere e il poliziotto. Riceve una chiamata e se ne va. Questo non me lo ricordo. Forse non importa. Adesso vediamo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Ssss. Ora devo prendere questa chiamata e lasciare la mia città. Hey, dove è il mio partner? Sei un d***o. Non mi piacciono. Non mi piacciono, b***. Vieni il club di grado sud. L'ha all'inizio. Ho iniziato. Io lo finisco. Sei davvero davvero fuori. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Ok Non me ne ricorderò mai ste cose Allora quindi Il poliziotto fa cadere il bicchiere Anzi no Il camionista fa cadere la tazza Ecco Poi succede Che Credo che riceva una chiamata Sì E credo che Quei due litigano e Joyce li ferma E poi C'è uno scarafaggio Sì uno scarafaggio Che ci cammina sopra Sì sì Ma lo speriamo l'ho ingarrato Vai la prima è andata Mi sa che l'abbiamo sbagliata questa Abbiamo sbagliato quello là del poliziotto Credo che il poliziotto riceva una chiamata E il suo collega se ne va Poi Poi succede che Li ferma Joyce Ha i due che litigano E poi E poi E andiamo Come on Come on è come che non è mai succeduto grow up maybe you made a move on me and I would never know yes that's what I did you can rewind time Max that's fucking insane we have to play I don't have time you did not just say that huh check out your nose too much blow you okay too much excitement see what happens when we hook up again then let's go to one of my secret lairs and fully test your power you need a sidekick to guide you okay girl wonder show me the way to Chloe's game manette okay supergirl let's go to my secret place don't even answer we have places to go come on before mom starts some more shit let's bail it's Kate Marsh from Blackwell you don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school I see how you roll so go ahead chat up Kate Marsh from Blackwell I've got other people to hang out with too ehm dai non rispondiamo facciamo per la nostra amica later mom bye Joyce freedom I feel bad about Kate she'll survive you not taking that one call now follow me young squire Max so we can seriously tap your power and rule the world bene Kate doesn't get upset I don't think I don't think even if who was this type of who was this type wait up sweetie dude this is gonna be so cool slow down wait for me to get your present you can just back time up we'll have to test you now to make sure welcome to American Rust my home away from hell raw and rough it suits you Max do you know how awesome this is I get my best friend back and she's also super sized we don't know for how long exactly why it's time to have fun David might be a douche but you did steal his gun is everybody armed in Arcadia Bay now? only the ones who shouldn't be like step dildo until now I'm not in the revolution yet Che you are the revolution Max so we should figure out how to best use and abuse your power you are so cute you haven't changed a bit okay let's do this can you find five bottles while I prep the shooting range? beer and guns nice combo you can handle it now go find us five bottles please bene dobbiamo andare a trovare cinque bottiglie it's hard to believe that was once on the road filled with dozens of students c'è una bambola mi 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 preoccupa oh poor thing they left you here all alone va bene ecco qua una una prima bottiglia where to find bottle bene dobbiamo trovare le altre dovrebbe essere da queste parti ok tranquilla c'è una cerva non sarà la cerva è scappata c'è una cerva bene è andata ecco qui abbiamo trovato un'altra bottiglia oddio e adesso allora torniamo indietro ok prendiamo la cassa e prendiamo la bottiglia e siamo a due ora dobbiamo andare a trovare un'altra bottiglia eccola abbiamo trovato un'altra come la prendo quella c'è un asse quest'asse mi serve beh mi sembra ovvio ok prendiamo questa bottiglia adesso e siamo a tre e ora l'altra ok ok Mi sa che qui c'è un'altra bottiglia Ecco qua Ah ne manca una Però c'è un messaggio Ah grazie per avermi aiutata vabbè Max grazie per l'ultimo consiglio di andare alla polizia e direi tutto di Nathan Apprezzo molto il tuo sostegno Mi aiuta a mantenere la fede Baci Sono da tua parte Kate Per favore non nominarmi troppo se puoi Sono già nei guai per conto mio E scusa se ti ho scorciata stamattina Immagino tu fossi troppo impegnata per rispondere Stavo per avere una crisi e avevo bisogno di qualcuno Inizio la lezione devo andare Bene manca un'altra bottiglia Ho sbaglio Eccola Ho trovato un'altra bottiglia Prendi questa bottiglia E come ci riesco Vabbè per ora direi di chiudere qua Questo episodio Abbiamo trovato le 5 bottiglie Spero che vi sia piaciuto Se siete lasciati un like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Su altri social Link in descrizione E niente Noi ci vediamo Alla prossima Noi ci vediamo Noi ci vediamo